Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa decima lezione sugli amplificatori operazionali. Oggi andremo a vedere il convertitore tensione-corrente in una delle sue due configurazioni, e più precisamente quella col carico riferito a massa. Andremo a vedere i collegamenti, come sempre come si ricava la relazione finale, quindi il discorso che la tensione d'ingresso mi è proporzionale alla corrente di uscita sul carico, e faremo qualche esempio numerico. Ci vediamo tra un attimo. Bene, allora lo schema per il convertitore tensione-corrente col carico riferito a massa è quello che vedete. Il carico viene collegato tra il terminale non invertente e massa, quindi riferito a massa proprio perché uno dei due terminali del carico è appunto collegato a massa, e più precisamente qui dove l'ho indicato. Vediamo come andiamo a ricavare la relazione. Allora, la tensione d'ingresso sarà poi sul terminale non invertente, avremo la tensione di uscita e avendo la retrazione negativa abbiamo il funzionamento in zona lineare e quindi la tensione sul terminale non invertente e invertente ha lo stesso potenziale. Quindi vado a vedere come ricavare appunto l'AIL. Allora, l'AIL sarà data dal contributo della corrente che arriva tramite l'ingresso e attraversa la resistenza R2 e la corrente che andiamo a chiamare I1 e la corrente I2 che invece attraversa la resistenza R2. Quindi andiamo a scrivere la relazione al nodo del terminale non invertente, quindi avremo semplicemente che l'AIL è uguale a I1 più I2. A questo punto vado anche a scrivere la mia relazione che la tensione al terminale non invertente è uguale alla tensione al terminale invertente e vado a scrivere la tensione al terminale invertente come partitore di tensione della tensione V0. Quindi avrò V0 che moltiplica R fratto R più Rf. A questo punto vado a sostituire questa relazione all'interno qua, andando prima a scrivere che l'AIL è anche uguale. oltre ad avere, allora, quanto vale la corrente I1? I1 sarà data da la tensione di ingresso meno la tensione del terminale non invertente, quindi la Vr1. Quindi la Vr1 sarà VI meno... V0, V0 meno V più fratto R2. Bene, a questo punto abbiamo detto vado a sostituire al posto di V più quella che ho scritto qua sopra, quindi il partitore di V0. è un po' grande e un po' piccolo, non va bene, perché sennò poi sembra che sia una cosa diversa. Allora, così. Allora, andiamo a scrivere. Quindi vado a spezzare queste frazioni, quindi metterò VI fratto R1, poi meno, e andrò a inserire al posto di V più tutto questo, quindi mi verrà VI fratto R1 meno meno V0 che moltiplica sopra mi rimane R, sotto mi rimane R1 che moltiplica R più Rf. Poi mi rimane stessa cosa faccio nell'altra parte, quindi V0 fratto R2 e qua avrò lo stesso meno V0 che moltiplica R sopra, qua ci sarà R2, R più Rf. Ok, vado un attimino a riordinare questa relazione, quindi avrò sempre la V1 fratto R1 dopodiché vado a raccogliere il termine V0 fratto R2 tra queste, vado poi ad unire, faccio taglio qualche passaggio, vado poi a unire questo con questo, in tal modo mi viene più V0 fratto R2, se volete farlo, provare a farlo insomma per esteso, ma diventano magari due o tre righe un po' noiose, allora, spero di riuscire a spiegare in modo sufficientemente chiaro, quindi V0 fratto R2, quindi questo termine rimane 1, meno, vado a riunire questi due termini, quindi questo con questo, la V0 l'ho raccolta, R2 l'ho raccolta, quindi qua devo andare a scriverla come R che moltiplica R1 più R2, e sotto R1 che moltiplica R più Rf, bene, allora se io voglio la proporzionalità tra la corrente di uscita e quella che è la relazione, la tensione di ingresso, devo poter togliere questo secondo termine, quindi il termine che dipende dalla V0, come faccio a togliere questo? Se io vado a fare in modo che questo termine, allora se questo termine è uguale a 0, allora tutta la parte della V0 viene eliminata, perché avrò 1 meno 1, 0. Allora, quindi il uguale semplicemente a questo che è poi quello che voglio ottenere. Allora, adesso andiamo a vedere come questa è la relazione finale che voglio ottenere. Come faccio a raggiungere quello? Allora, vado a riconsiderare solo questo termine per renderlo uguale ad 1. In realtà, intanto che ho sbagliato, devo mettere la graffa, questo è così, questo termine è uguale a 0. Ok, per essere questo termine uguale a 0, questo deve essere uguale ad 1. Allora, se io scelgo, allora questo si può fare semplicemente mettendo tutte le resistenze uguali ed è più semplice da capire, ma posso anche farlo andando semplicemente a mettere il rapporto delle resistenze uguali, quindi posso anche eventualmente avere rf fratto r uguale a r2 fratto r1, quindi mi basta questa relazione. Allora, per spiegarlo in modo più semplice, faccio conto di avere che questa relazione valga a e vado a sostituire in questa, quindi tengo r uguale ad r, quindi vado r uguale, r1 lo lascio uguale ad r1, invece esprimo r2 ed rf come a per r, nel caso r1 e a per r, quindi r2 sarà a per r1, quindi r1, anzi facciamo lo schermo proprio così, a r1, vado al denominatore r1, abbiamo detto, lasciamo r1, invece poi qui ho r che lascio r, più rf che esprimo come a per r, da qua, rf, porto questo di là, a per r, a questo punto vado a raccogliere r1 dal numeratore ed r dal denominatore, proprio se voglio fare i passaggi, se no si vede anche abbastanza doppio, r r1, r1 più a, e r1 r1 più a, e questo effettivamente vado a semplificare ed è effettivamente uguale ad 1, quindi mi basta che il rapporto sia uguale, ma se voglio ancora più semplificare le cose, e in molti schemi, in molti libri lo trovate, mettete semplicemente r uguale ad r1 ed rf uguale ad r2, quindi questa parte è garantita, quindi la relazione in questo modo è appunto corrente di uscita sul carico proporzionale a quella che è con una proporzionalità di 1 fratto r1 alla tensione d'ingresso. Qualche altro particolare, ovviamente dobbiamo sempre fare in modo di non mandare l'operazionale in saturazione, quindi bisogna fare attenzione alla corrente presente, cioè alla IL, e fare attenzione quindi anche ai valori di resistenza che mi garantiscono appunto di non andare in saturazione, quindi di non avere una tensione di uscita più alta di quello che è la tensione di saturazione. E in genere è sempre meglio avere le resistenze tutte più o meno dello stesso ordine di grandezza, quindi tenuto conto di cosa vogliamo mettere come carico, dovremo andare a dimensionare le resistenze più o meno dell'ordine di grandezza uguale. È anche possibile utilizzare questo schema mettendo una tensione d'ingresso qua, quindi se vogliamo utilizzarlo anziché come amplificatore non invertente, come differenziale è anche possibile inserire una tensione qua, quindi è possibile inserire una tensione qua e quindi opererà in modo differenziale, perché avrò sia un ingresso qui che un ingresso qua di riferimento. Bene, vediamo un esempio pratico. Allora, suppongo di avere r1 uguale ad r1k ed rf uguale a r2 4k, la tensione Vcc duale più o meno 12 volte e la tensione di saturazione un pochino meno, quindi 10 volte. Allora, mi rifaccio a questa relazione, quindi vado a riprendere questa relazione qua, anzi, sì, riprendo questa qui, dove questa è anche uguale alla VL, poiché la tensione, la VL, quindi la tensione sul carico, è uguale al terminale, a quella del terminale non invertente. A questo punto io posso, andando a considerare questa relazione, vedere l'intervallo di, cioè il range della VL, affinché non mi vada in saturazione l'operazionale, quindi la VL dovrà essere compresa tra questi valori. Quindi, allora, da una parte avrò meno tutta questa relazione rf, allora, così, quindi da una parte avrò meno questa relazione per la Vsat, quindi qua avrò il valore negativo e qua avrò il valore positivo al posto, cioè V0, ovviamente, al posto di V0 andrò a mettere Vsat. Quindi questa è la relazione affinché non vada in saturazione l'uscita. numericamente, in questo caso, avremo la VL compresa tra... Allora, qua abbiamo... ho dato un K un K e 5, quindi un quinto un quinto per 10, quindi 2 e di là meno un quinto per 10, quindi andrà tra meno 2 e 2. in questo modo arrivo a ad avere al massimo più o meno 10 sulle uscite. Valori più grandi, quindi valori più grandi di della tensione VL ovviamente mi vanno a fare andare in saturazione l'operazionale. Bene, spero sia tutto chiaro, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video!